ragazzi siamo qui ancora al magic lake di dimaro per la seconda volta quest'anno con oggi faccio un esperimento provo a pescare con la con la mosca ho già preso una trottirillina spettacolo al lago la trottirillina qua dentro siamo qui ancora al magic lake di dimaro per la seconda volta quest'anno con dunque ragazzi oggi faccio un esperimento provo a pescare con la mosca ho già preso una trottirillina quindi le mie cinque trotte del laghetto le ho prese e devo dire la verità provate a pescare a mosca perché è molto più performante sentite bene tirare il pesce poi con canne piccole vi divertite secondo me di più e niente e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando